Ben ritrovati, ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video post Juve Roma 0-0. Allora, un passo indietro per quanto riguarda il risultato, perché ovviamente non è arrivata la vittoria rispetto alla prima due partite. Come dicevo abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto al Como, rispetto al Verona, perché comunque è stato un crescendo di situazioni e gli avversari ovviamente sono stati diversi. E la Roma rispetto ovviamente a quella che è stata la partita con il Como, rispetto a quella che è stata la partita con il Verona, hanno fatto giocare meno la Juventus. Allora la Juventus si è proposta nel centrocampo, soprattutto nel cuore del centrocampo, così come era più o meno quella dell'anno scorso con Locatelli e Fagioli. E diciamo che hanno fatto un po' il compitino, sia l'uno che l'altro, non hanno fatto né danni, né cose negative, né cose positive. Diciamo che si sono mantenuti facendo quello che è il minimo essenziale. Infatti nel primo tempo, a parte quella timida occasione da parte di Vlaovic, non c'è stato null'altro, ma dalla parte e dall'altra le squadre in buona sostanza si sono annullate completamente. Sembrava che nessuna delle due volesse provare a fondare o cercare di trovare lo spunto per poter far bene. Il secondo tempo è stata sicuramente una partita migliore, è stata una partita più vivace, anche più bella da vedere rispetto al primo. Sono entrati, non subito però, in corso d'opera, quelli che sono i nuovi acquisti, quindi mi riferisco a Coppa Myers, mi riferisco a Nico Gonzalez sul finire, ma anche a Francisco Consenzao. Su Francisco Consenzao, devo essere sincero, mi sta stupendo, perlomeno mi ha stupito, quello che è la dinamicità di questo giocatore, la velocità, forse perché essendo un bassino, un metro e settanta circa, baricentro basso, corre tanto, diciamo che mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto anche perché tiene palla, sa tenere palla, è molto tecnico, perché poi alla fine appunto è molto tecnico e penso che farà bene sicuramente con la Juventus. Quello che non mi è piaciuto assolutamente è stato Vlaovic. Vlaovic fin troppi errori, anche errori banali, anche errori di appoggio. A volte, insomma, l'appoggio, quando era lì, magari davanti l'area di rigore, doveva fare 1-2 con qualche compagno, sbagliava quello dell'appoggio, magari un po' lungo, un po' corto, oppure sbagliava quella che era la scelta, andare male a destra piuttosto a sinistra o viceversa. Quindi, secondo me, Vlaovic ad oggi è stato il peggiore in campo da parte, insomma, di quello che è stata la nostra squadra e deve migliorare su alcuni atteggiamenti, ancora deve migliorare, deve migliorare e, secondo me, quando canala questa situazione comincia ad andare via di testa e poi, ovviamente, rende ancora meno di quello che, appunto, rende di solito. Dagrath-Louis, insomma, Dagrath-Louis l'abbiamo visto in campo solo mezz'ora. Io non so perché Tiago Motta lo sta facendo giocare l'ultima mezz'ora delle varie partite, però, cioè, uno come lui l'abbiamo visto, insomma, se ne va in mezzo a una selva di gambe, è dotato di una tecnica sopraffina, il salta all'uomo con una facilità disarmante. Questo è un giocatore veramente di un altro pianeta, fortunatamente è con noi, però, se potesse giocare un po' di più, magari, qualcosina è meglio facciamo, rispetto a vari allocatelli e a fagioli, che non è che abbiano fatto grandi cose. Fagioli, forse, è stato condizionato anche da quella munizione dopo un minuto di gara, che poteva anche, fra virgolette, non dico non starci, però un minuto, magari, sia un attimino più tollerante, però, vabbè, è andata così, purtroppo sappiamo che, con noi ci vedono bene quando, insomma, devono prendere eventuali punizioni, quindi sappiamo che se è così, e quindi noi dobbiamo tenere conto. Di dietro non abbiamo sofferto più di tanto, la cosa positiva è che non abbiamo preso gol, quindi continuiamo a non prendere gol, però, insomma, bisogna fare l'affondo, bisogna comunque andare a cercare il gol, cosa che non sempre succede, perché manca sempre quello che è lo spunto finale, e se poi, alla fine, in cui poche volte che ci riusciamo, Vlavic non riesce in qualche modo o a tenerla, o a fare quello che fino adesso ha fatto bene, purtroppo, diciamo che abbiamo un attacco spuntato, decisamente spuntato. Ilditz non ha fatto chissà cosa, insomma, anche lui non mi pare che abbia brillato particolarmente. Ripeto, secondo me, quelli che devono essere menzionati come migliori in campo sono Douglas Lewis, nonostante i 30 minuti ha fatto una grande partita, Gatti ha fatto anche una bella partita dietro, è stato ordinato ed è stato, diciamo, risolutivo in due o tre occasioni, siccome anche Bremer non è andata male. Sono stati riproposti Niccolò Savone e Mbagula, che comunque anche loro hanno fatto, diciamo, il loro, senza infami e senza rode, quindi va bene così. Va bene anche così nel risultato, adesso abbiamo la pausa, poi avremo l'Empoli, poi avremo la Champions League e poi avremo il Napoli, però, insomma, ragioniamo una partita per volta, adesso c'è la nazionale, bisogna un attimino riposarsi e vedremo. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante per sostenere il canale e la sua attività, campanella attiva, like, commenti, fatemi sempre sapere quello che è il vostro pensiero qui sotto. Penso aver detto tutto, grazie, fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto. Volta io, wei.